Allarme terrorismo, il livello di sorveglianza delle basi militari americane in Europa si alza da Bravo a Charlie, uno stato di allerta che verrebbe applicato quando potrebbero esserci minacce imminenti e che coinvolge anche la città in cui la presenza americana in Italia è più forte, Vicenza. È evidente che Vicenza da questo punto di vista è in una situazione particolare perché è in questo momento la città italiana maggiormente interessata dalla presenza di truppe americane, di siti militari americani e quindi è importante questa attività di intensificazione dei controlli, è importante che i vicentini possano sentirsi sicuri e possano sapere che c'è comunque un controllo costante e vigile di questi siti così delicati. Allerta innalzata alla caserma Ederle e alla caserma del DIN. L'ultima volta che in Europa si è raggiunto il livello di sorveglianza Charlie, il secondo più alto, è stato anni fa in occasione degli attentati lanciati dall'ISIS nelle città europee. I comandi militari americani non hanno rivelato quale informazione oggi li abbia portati ad innalzare la protezione, ma il pericolo evidentemente è ritenuto credibile. L'innalzamento del livello di sorveglianza avviene in concomitanza con le tensioni internazionali come la guerra a Gaza e con eventi sportivi come le Olimpiadi di Parigi e gli europei di calcio in Germania, ma soprattutto in coincidenza con la festa dell'indipendenza celebrata il 4 luglio. È una tradizione importante quella dell'apertura della caserma Ederle ai Vicentini in occasione del 4 luglio, cioè di questa festività così importante per gli americani e quindi a maggior ragione è importante che tutte queste attività vengano svolte in piena sicurezza.